Per la palla a volo Cerignola, dopo aver sfiorato la scorsa stagione i play-off per un nulla, si è cambiati con un ruster totalmente nuovo o quasi. La riconferma della storica capitana, Margaret Altomonte, il ritorno di Maria Grazia Simeone a riprendere e completare un percorso interrotto causa coronavirus. Poi l'arrivo di un nuovo tecnico, Francesco Sgarvi, che ha fatto capire di che pasta è il suo metodo di allenamento. Poi Colucci, Gervasi, Pettinari, Adorni, Martinelli, Raffaele, i nuovi nuovi che proveranno insieme ad altre squadre a tentare l'assalto alla Serie A2 nazionale. Il primo impegno, sabato 7 ottobre, al Paladileo, contro la formazione della cabata Mattese Caserta, che secondo i rumors potrebbe essere fra le squadre protagoniste per l'assalto all'A2. Allenati dalla coppia Rega Melillo, puntano sulla forza di una delle sorelle Assensau, già imbassata con la maglia della Fenice Libera Virtus e del duo Chiricallo Fiori. Per la capitana della Vallavolo Cedignola, Margaret Altomonte, sarà una gara tosta e difficile. Sì, sicuramente affrontiamo una delle squadre che è più quotate all'interno di questo girone, quindi noi abbiamo lavorato intensamente per far sì che ci si possa trovare pronti per questo incontro. Stiamo lavorando certo per questa partita, ma appunto per trovare la maggiore alchimia fra di noi, per esprimere la migliore col lavoro possibile. Per cui stiamo lavorando intensamente, il lavoro premia sempre e continuiamo su questa strada.